Sono in aumento le donne che cercano assistenza allo sportello Donna chiama donna della CGL di Firenze. Chi si rivolge al presidio denuncia nel 37% dei casi violenze o molestie sul posto di lavoro, mentre il 9% ritiene di subire mobbing. Lo rivela uno studio sulle discriminazioni di genere presentato oggi nel corso di un convegno alla Camera del Lavoro. In una situazione, in un momento di crisi come quello che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando, le donne che lavorano sono le prime ad essere espulse e a subire tutta una serie di discriminazioni. Mai come oggi assistiamo a licenziamenti di donne in maternità. In più abbiamo una legge che è il Job Act che è giusto affrontarla e provare a leggerla anche in un'ottica di genere. Perché quella legge sotto alcuni aspetti è dirompente per quanto riguarda le donne e le donne al lavoro. Molte delle donne che lavorano sono impiegate ai lavori a part time perché devono fare i conti con la famiglia, con i figli e con un'assenza di struttura di asili nido, ad esempio, nelle nostre città che portano un segno, quella di ricondurre le donne alla famiglia, alla casa e di, come dire, reprimere quella libertà, quella dignità, quella che hanno conquistato in tanti anni di battaglia, cioè non gliel'hanno regalata nessuno. Quindi tutte quelle iniziative come quella di Firenze oggi che provano ad affrontare, a guardare con un occhio attento e facendo un'analisi vanno nella direzione ovviamente giusta per provare davvero a cambiare queste politiche scelerate che stanno venendo avanti e che sono ovviamente contro le donne.